E salve a tutti i gentili, bentornati, abbiamo avuto Gabriel Knight, Sines of the Pudders. Dunque, abbiamo parlato e abbiamo fatto una grandissima figura con Gator. Ora, non so dove devo andare. Non ricordo una mazza, mi dispiace. Forse devo tornare qua? O devo ridare... Come no? Questo è uno dei motivi migliori per tornare, giustamente. Parla con lei un secondo, che forse dobbiamo farli fare qualche ricerca, non mi ricordo per niente. Eh, chiedi ricerca. Cerca una certa Madame Chetanat. Quella che abbiamo visto nell'emporio. Non si può nemmeno sapere, Gabriel. Eh. No. Niente. Eh beh. Oh, merda. Ok, tranquillo. Tranquillo, tranquillo. Ti ho ridato niente di un distintivo, ok? E mo' non so che cacchio devo fare. Mo' se devo parlare con te? Insultalo. Vabbè, dai, sono carini. Niente, non so che cosa fare, è preciso, quindi... Mi viene da sospettare che devo andare tipo a una... Alla tomba. Civitero di St. Louis. Non mi ricordo, cazzarola. Eh, ci ho giocato un po' di tempo fa alla fin fine. Non mi ricordo neanche più che... Come andava, in certi momenti. Segni. No, aspetta. Questi sono i suggerimenti. Eh... Album degli schizzi. Usalo. Ecco, non ho fatto questo. Ne abbiamo copiati. Perfetti. Che strani che sono, vero? Esci. Perfetto. Quindi, non so se sono... Cibo, ciondoli e altre cose ben più sconvolgenti sono state lasciate sulla tomba di Marilla V. Con offerte dai credenti. Ok. Quindi, esamina. Osservandolo, la serie di croci, Gabriel non può fare a meno di notare che esse hanno una configurazione e un significato a lui incomprensivi. Eh beh, ovvio. Non li posso, tipo, confrontare con quelli che ho già? Eh... No, niente. Niente. Quindi... Quindi che devo fare? Ah! E c'è un ragazzino che fa qualcosa. Il gruppo. Ok. C'è un pittore. Oddio! Miro, pilla, tocco! Oh! Unbelievable! Rotten luck! Ok Cosa devo fare? Ah mi dispiace Su cosa stai lavorando? Cosa ha detto? Non me ne sono resa conto Però se avete qualcosa per convincerlo Tipo prendere il suo schizzo Potremmo Non mi dico che sarà così facile Gabriel non può aggiungere il disegno della sua posizione Deve farlo qualcun altro per lui Quello degli ottobre Questo qui Vediamo un po' Ah ok Ah è un ragazzino proprio Va bene Una persona Perfetto Ah questo ok Questo mi ricordo come devo fare Ah ok Ho capito Apri un secondo va Zero della cassa George l'incazzo L'incazzo? Bene È un buono per i libri Non ci siamo capiti come fare Come fare Ok perfetto Vai qua Non è vero Ehi C'è Abbiamo pagato 20 Va bene E adesso lo diamo al ballerino Prima di tutto però gli chiediamo di che cosa fare Dai questo Dai Do Dog a un bambino Che brutta cosa È un po' brutta come cosa adesso La noto un pochettino Proprio ora Ah Richiesta speciale Tipo un foglio Potrebbe sembrare Igenica Sarà Sporco di melva Nonemas Di Ab� vivre Di Di Mi Di I No Di Ob Di 住 Puoi aiutarmi? E che cazzo Quindi ha bisogno di altri pezzi Forse questo è? Esattamente Ah è vero vanno a comporre qualcosa Bene Quindi adesso andiamo Si stava scena tardi Guardi e decidi di rincasare Perfetto abbiamo passato il secondo giorno ragazzi Ciao Sbaglio i nomi della gente Perché? Perché? La vita è dura Oh Stesso sogno? Gente che piange Dopo aver fatto il casino Adesso è diverso Ecco come è arrivato il sostegno per la cervicane La sequenza è diversa Però Gabriel finisce sempre in piccato come Non so che cosa Ecco Ecco Day 3 ha tirato alle sale del tal sapere di Recai di cospiratore non fu alla città dei morti che trovai cosa vorrà dire? è la Grace come? no capisco Grace no, non proprio sono mezzo morto immagino di sì mi dispiace se è completamente bello parlare così della propria madre oh Dio va bene gente finiamola qui bene inizieremo fra poco il terzo giorno se vi è piaciuta questa parte lasciate un mi piace un commento e ci vediamo nel prossimo episodio di Guardian Night già